Ancora polemiche sul superbonus 110%, anche se il nuovo decreto aiuti approvato il 2 maggio scorso ha spostato dal 30 giugno al 30 settembre il termine, entro cui anche i proprietari di villette monofamiliari potranno soffrire del superbonus, ma sembra improbabile che il governo continuerà su questa linea anche dopo la nuova scadenza. Le parole del Premier Draghi infatti hanno fatto discutere e lui non è d'accordo sulla validità del superbonus. Uno dei motivi di contrarietà per il Premier è l'aumento dei prezzi. I prezzi per le ristrutturazioni sono triplicati, ha detto, perché il superbonus per lui toglie l'incentivo a trattare sul prezzo. C'è poi, oltre all'aumento del costo dei materiali, anche il problema della cessione dei crediti. Molte imprese sono alle prese con l'impossibilità di riscuotere crediti per lavori completati da tempo e per i quali hanno pagato tasse, stipendi e contributi. Le due principali banche italiane, ad esempio, sono bloccate da questo punto di vista, dopo che già banche più piccole avevano chiusi i rubinetti per mancanza di capienza fiscale. L'unica strada, ovviamente, è un intervento del governo con un emendamento. Sul tema è intervenuta anche già Lancia regionale, con una lettera aperta al Premier Draghi, in cui si è manifestato sgomento e preoccupazione circa le dichiarazioni rilasciate sul tema del superbonus. Anche il presidente del Lancia provinciale, Gianni Frattalia, è in linea con la presa di posizione assunta dall'Associazione a livello nazionale e locale. Per me è stata una dichiarazione forte e poteva risparmiarsela, anche perché da una parte, come ha detto Conte, che hanno prorogato quello che è stato il superbonus delle unifamiliari a 30 settembre. E poi io non trovo, visto che lo sto eseguendo, diciamo, a livello alto questo superbonus, non trovo che il caro Prezzi proviene dal superbonus. Il caro Prezzi proviene dalle indecisioni del governo. Tutte quelle indecisioni che sono partite nel 2020 e veramente l'operatività è avvenuta nel 2021 con tanti indecisioni e con tanti aggiustamenti. Poi oggi che le banche iniziavano a marciare veramente a risolvere le problematiche dello sconto in fattura, con questa affermazione di Draghi sicuramente ci sarà confusione. Perché il caro Prezzi? Perché il caro Prezzi, quando c'è un programma molto ristretto, si deve acquistare per far fronte a quello che è l'impegno contrattuale. Se invece l'avesse fatto strutturale e con chiarezza dall'inizio e per l'approvvigionamento ci fossero stati due anni, tre anni, ma il materiale può venire da qualsiasi parte del mondo.